A Vallecchia di Pietrasanta sta per tornare la classicissima Coppa Santo Stefano. Parliamo di atletica leggera, di una manifestazione podistica di grande livello tecnico, che poi è anche una classica di fine anno, giunta non a caso alla 66esima edizione organizzata dall'atletica Pietrasanta Versilia del presidente Filippo Viti in collaborazione con la polisportiva versiliese. È una delle gare più longeve d'Italia. La partenza ha appunto il 26 dicembre alle ore 10 con i più giovani che completeranno una volta il percorso classico che prevede l'avvio dal centro Bettino Pilli verso via Solaio con passaggio dietro la Pieve, la discesa poi verso la provinciale Vallecchia in direzione Pietrasanta e all'altezza dell'extrattore Orlando si svolterà in salita per tornare verso Vallecchia Vecchia e raggiungere così di nuovo il traguardo. Alle 10.15 sarà la volta delle categorie allievi-allieve, delle categorie C e D maschile della categoria E femminile ed F femminile che si affronteranno sulla distanza di 4 chilometri e 700 metri ovvero due giri del percorso. Il gran finale poi alle 10.45 con la partenza della gara maschile assoluta che si dipanerà su tre giri per circa 6 chilometri e 200 metri. Ricordiamo che lo scorso anno, nel 2017, la Coppa Santo Stefano fu dominata dagli atleti ruandesi. In campo maschile la vittoria andò a Pontien Dabarucicchiege, nome quasi impronunciabile davanti al keniano Circir, mentre nel settore femminile la spuntò Clementine Mukadanga davanti a Oda Mohamed Mohamud.